Lecci, cipressi, pini, allori, tutte piante sempre verdi, quindi il colore è anche dato dal colore delle cortecce, dall'emissione di nuove foglie, quindi da una clorofilla di un verde più tenue, flu, che poi si scurisce col suo andamento temporale. E poi ci sono le cicas, le cicas che ormai sono uno status symbol proprio, le troviamo nei vasi delle terrazze. Risolvono gli angoli le cicas. È bellissimo avere la possibilità di abitare in un ultimo piano, Roma, e avere la cima di un cipresso davanti, che dondola sotto il peso dei piccoli uccelli, che normalmente hanno questa cosa di mettersi proprio sulle punte dei rami dei cipressi. Gli aceri, tanti aceri, i bagolari. Villa Borghese non ha soltanto lecce e pini, ha una serie di altri alberi che sono stati aggiunti nella sua vita. Qui la storia porta l'amore di un pittore, di un artista, dentro un giardino. Nell'ultima parte della sua vita Monet costruirà il suo ultimo giardino a Giverny. Nel 1889 andò all'esposizione universale a Parigi, quella della Tour Eiffel praticamente, dove ai piedi della Tour Eiffel, nel Trocaderot, c'erano queste vasche d'acqua dove furono esposte per la prima volta 19 specie di ninfee e altrettanti fiori di lotto. Era un nuovissimo vivaista, la Tour Mourlac, che è stato uno dei più grandi ibridatori di ninfee e di sciori di lotto. Tant'è appunto che si dice che le ninfee di Monet hanno due pennelli. Uno è quello appunto del pittore e l'altro è il pennello dell'ibridatore, cioè di la Tour. Grazie a tutti.